Ci sono anche i fondi per gli interventi di restauro della Cattedrale di Ferrara nei 51 milioni 630 mila euro che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha stanziato destinandogli a 21 edifici di interesse culturale tra chiese e luoghi non destinati al culto del territorio emiliano-romagnolo lesionati dal sisma del maggio 2012. Oggi è arrivato il via libera dalla Corte dei Conti per il programma di interventi del Ministero. Lo sblocco di queste importanti risorse è una notizia molto attesa nelle aree colpite dal terremoto afferma l'assessore regionale alla ricostruzione post-sisma a Palma Costi che ci consente, come avevamo annunciato, di accelerare il percorso dedicato agli edifici storici. Un tassello fondamentale aggiunge affinché la nostra terra ritorni più bella e forte. Nel Ferrarese sono previsti sette interventi per un totale di 15 milioni 550 mila euro. A Ferrara saranno sulla Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire 7 milioni 700 mila euro, le chiese di Santa Pollonia 800 mila euro, quella di San Francesco 2 milioni e 300 mila euro, quella dei Santi Giuseppe Tecla e Rita 500 mila euro e Casa Minervi con un intervento da 200 mila euro. Fondi anche per la provincia. Buona Compra di Cento si interverrà sulla chiesa di San Martino di Tur 4 milioni di euro e a Mirabello sull'Oratorio della Beata Vergine di San Luca con 50 mila euro di fondi. Sulla ricostruzione stiamo portando avanti un lavoro davvero molto importante, ha sottolineato il Presidente della Regione e Commissario alla Ricostruzione Stefano Bonaccini, grazie a un gioco di squadra che vede insieme istituzioni e cittadini, territori, sindaci, gli enti locali e il Governo. Un'azione condivisa, ha detto, che ci ha permesso di far tornare la gran parte delle persone nelle proprie abitazioni, di non far perdere un giorno di scuola agli studenti e far ripartire l'economia a ritmi addirittura superiori rispetto a prima. E ora, con il via libera e questi 51,6 milioni di euro, daremo, ha concluso, ancora più forza all'azione di recupero del patrimonio storico e architettonico dei nostri luoghi.